Hanno lasciato un segno del loro piccolo all'interno dell'area dei giochi antistante Palazzo Europa a Capodorlando. Questo è il loro intento e lo avevano comunicato al sindaco Franco Ingrillì perché in quel sito potesse esserci il ricordo del loro Riccardo. E così è stato ieri pomeriggio l'inaugurazione dell'altalena che i genitori hanno donato alla comunità e a tutti i bambini. Mantenere non solo nella nostra mente ma anche nel dare la possibilità a tutti i bambini quando salgono su questa altalena che vedete di potersi ricordare di questo bambino che purtroppo è stato sfortunato. I genitori sono venuti di me messi orson dicendo che volevano fare qualche cosa in ricordo di Riccardo e io gli ho suggerito di mettere questa altalena perché era in effetti uno dei giochi più vecchi al mondo però mancava nella zona del divertimento per i piccoli. Quindi l'abbiamo posizionato e l'abbiamo anche posizionato vicino a casa loro ma deve servire proprio per poter ricordare in maniera positiva un bambino che sarebbe sicuramente voluto essere qui e poterci andare. È difficile dire sì però è quello che stiamo cercando di fare in realtà lasciare un messaggio positivo, lasciare un bel ricordo di Riccardo soprattutto qualcosa che possa fare divertire gli altri bimbi farli giocare, farli volare insomma su e giù e quindi quest'altalena serve proprio a questo. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.